L'incontro è stato fantastico, sono ritornata giovane come i miei alunni, la voglia di fare, la voglia di ricominciare, la voglia di proporre cose nuove e di passare ai ragazzi la voglia di vivere. Ringrazio gli italiani di frontiera e grazie di tutti. Sono la professoressa Oldoni dell'ITC Benini di Meleniano insieme alla mia classe Quarta B e Erika.